Un progetto da 2 milioni di euro per recuperare e risanare le strutture antiche del castello medievale di Agropoli, un intervento che punta a riportare alla luce utilizzando materiali adeguati al restauro, torri e ambienti di cui oggi ci sono solo resti. Un'opera sulla quale l'amministrazione comunale si sta muovendo rapidamente. Dopo aver fatto redigere la progettazione definitiva ed esecutiva ad uno studio di architettura di Roma, il governo locale punta a presentare il progetto alla regione Campania per il recupero dei 2 milioni di euro necessari per la sua realizzazione. Alla progettazione esecutiva manca solo il parere favorevole della soprintendenza archeologica. Il soprintendente Francesca Casule ha tenuto venerdì pomeriggio un sopralluogo con gli architetti ed ha preso visione del progetto. Dopo aver esaminato gli elaborati Casule ha suggerito ai progettisti alcune piccole modifiche da apportare al fine di ricevere il suo via libera. Si tratta dell'ultimo necessario parere che consentirà all'ente locale di candidare a finanziamento l'opera presso la regione Campania. Abbiamo acquistato il castello, afferma il sindaco Adamo Coppola, e questa è stata la più grande soddisfazione. Con piccoli sforzi abbiamo apportato negli anni quelle piccole modifiche che il bilancio dell'ente ci consentiva per cercare di eliminare quegli elementi che erano stati introdotti dal privato e nulla avevano a che fare con il monumento. Per poter restaurare in maniera completa il maniero però abbiamo bisogno di fondi regionali affinché il nostro gioiello possa tornare a splendere come un tempo.